Nel giorno della proclamazione degli eletti, nelle rapposte Iacucci in consiglia provinciale a Cosenza, il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, tra i papabili, alla successione non nasconde alcuna velleità alla sua candidatura in considerazione del riacquisito ruolo assunto dalle province, soprattutto nell'azione di coordinamento dei fondi del PNNR con i territori. La discussione politica fra noi sindaci, fra i consiglieri, quindi fra chi deve eleggere il nuovo presidente, deve essere incentrata soprattutto sul cosa fare nella provincia di Cosenza, che è una provincia grande. Trattative in corso tra sindaci che pongono rilievi programmatici, strategici ma anche politici. In questo contesto la città di Corigliano Rossano rivendica il diritto di esercitare un ruolo. È in atto una discussione sulla presidenza, è chiaro che la città di Corigliano Rossano, anche per come è rappresentata in consiglio provinciale, fa parte di questa discussione. Poi non è una questione personale o una questione di rivendicazione territoriale. Bisogna fare ragionamenti diversi ormai. A febbraio è prevista l'elezione del presidente, ma per il primo cittadino ionico il nuovo presidente avrebbe dovuto essere eletto in concomitanza all'elezione dei consiglieri. È aperta fra noi sindaci una discussione sulle prossime elezioni a presidente, elezioni a presidente che si sarebbero dovute tenere oggettivamente insieme alle elezioni del Consiglio provinciale. Questo non è avvenuto. Probabilmente questo ha anche in parte penalizzato il risultato elettorale. Proprio oggi l'ansiste provinciale è preseduta dal vicepresidente Ferdinando Nociti, che ha posto una serie ipoteca alla presidenza, discute di dimensionamento scolastico.